Buona, buona becciane Ulmanda, ripartenza della Lecce come sempre in verticale La velocità di Sisee, 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 scarta anche Seppe, porta vuota Ulmanda, cambio scenario dalla parte di Panda Ulmanda, c'è Di Francesco Il colpo di testa vincente Tiro dalla bandierina, va Rodriguez, primo palo, la schiaccia quadrato Poi Ulmanda con il destro palo E poi in calcio d'angolo, Alexandro Ulmanda è libero in area, la mette dietro Colombo Umtiti, Ulmanda Ma tutto corto, strefezza, Ulmanda Il lacrosso, secondo palo Arriva Baschirotto Elemento a terra del Verona Poi Ulmanda Pallone passato